Cari amiche e cari amici, in questo video parleremo della concezione della sessualità nella tradizione, una concezione che nulla ha a che vedere con il senso mercificato dei nostri giorni. Una definizione molto calzante della sessualità nel mondo moderno ci è fornita da Evola quando parla di pandemia del sesso. Nell'epoca moderna il vocabolo pandemia, dal greco pandemos, tutto il popolo, è un'epidemia la cui diffusione interessa più aree geografiche del mondo. Ed è stato geniale Evola a dare questa definizione pandemia del sesso, perché veramente mai si è stati ossessionati al sesso come in questo periodo. E la cosa ancora più grave è che ci si ritiene liberi, si ritiene di aver raggiunto una libertà sessuale che è una schiavitù. E sotto gli occhi di tutti, come anche attraverso la pubblicità, l'influenza dei media e della televisione, il sesso si è divenuto una vera mania, un'ossessione pervasiva che ha causato la perdita del suo significato profondo, realizzativo, come testimoniano ad esempio molte tradizioni orientali. Tale pandemia è una scomposta e disordinata reazione non solo alla visione sessofobica cattolica, ma anche a quella del puritanesimo protestante. noi qui siamo stati un po' tutti vittime della sessofobia cristiana in generale. C'è la sessofobia cattolica, ma la sessofobia è cristiana, fa parte integrante del cristianesimo. E questa pandemia, appunto, questa sorta di ossessione del sesso, è una reazione scomposta e disordinata. Proprio perché, a volte si dice che si diventa più realisti del re, no? Questa forma di sessofobia durata per secoli ha provocata una reazione in senso opposto dove, come rilevavo prima, si pensa di aver raggiunto una libertà sessuale mai avuta quando innanzitutto questo non è vero. E poi la cosa grave è che si scambia la schiavitù dal sesso per libertà, perché l'ossessione del sesso, questa forma maniacale, dove il sesso è in tutte le cose e dalla pubblicità è così pervasivo, è una forma di schiavitù a tutti gli effetti. L'ossessione moderna banalizza il sesso ed attenua l'attrazione, poiché la fisicità e il nudo femminile divengono qualcosa di così ordinario e abituale da perdere quella carica sottile di magnetismo, di fascinazione, che sono fondamentali nell'attrazione tra i sessi. In tal modo apre la strada alla pornografia più estrema e al fenomeno disgregativo e dissolutivo del gender fluid. È ovvio che la continua visione del sesso attenua l'attrazione. E è anche ovvio che tutto questo provoca una banalizzazione della sessualità, proprio perché c'è un tale abuso, soprattutto del corpo femminile, che questo non attira più di tanto. Certo, l'attrazione spontanea e naturale c'è tra un uomo e una donna. Però se pensiamo che solo poco più di cento anni fa solamente un polpaccio scoperto di una donna creava una forma di desiderio e di eccitazione, ci renderemo conto che oggi l'asticella dell'eccitazione è stata alzata di molto, per cui si è arrivati a una pornografia estrema, perfino al sesso con gli animali. Questo è veramente un fenomeno disgregativo e dissolutivo per la personalità, per la psiche delle persone, per non parlare del gender fluid. E che cos'è questo gender fluid? È quella devastante teoria che sostiene che l'identità sessuale di un individuo non viene stabilita dalla natura e dall'incontrovertibile dato biologico, ma unicamente dalla soggettiva percezione di ciascuno che sarà libero di assegnarsi il genere percepito orientando la propria sessualità secondo i propri istinti e le proprie mutevoli pulsioni. Una teoria che conferma verso quali tristi lidi possa orientarsi l'individualismo esasperato della modernità. Attenzione, il gender fluid ha a che vedere con l'omosessualità, solamente in modo indiretto. L'omosessualità è un fenomeno che c'è sempre stato e sempre ci sarà. Non è un caso invece che nella storia di tutti i popoli da sempre non ci sia stata l'esigenza di questo gender fluid, perché è qualcosa di creato a tavolino, è qualcosa di innaturale, è qualcosa di favorito dal liberal capitalismo per indebolire gli individui e renderli più fragili proprio per dominarli meglio. Perché è evidente che è un incontrovertibile dato biologico l'identità sessuale. E se questo viene negato, viene negato l'uomo, parliamoci chiaro. E l'uomo diventa qualche altra cosa. Che cosa? È un grande punto interrogativo. Guardate già com'è inquietante questa immagine. Tutta questa rapida trasformazione nel modo di concepire la sessualità ha come conseguenza nei rapporti fra i sessi una superficialità diffusa, un'incapacità di comunicare attraverso una sana affettività, una sconcertante banalizzazione dei rapporti che coinvolge lo stesso atto sessuale ormai concepito come una pratica scissa da qualsiasi aspetto profondo di autentica unione di anime tra i sessi. E ancora oggi, quando ci si sposa in chiesa, fa parte del rituale la frase che vi amerete nella malattia, nella gioia e nel dolore finché morte non vi separi. E questa ormai è una frase gettata lì, che ha perso totalmente di sostanza, visto anche tra l'altro il numero enorme di divorzi. Il problema è che tutta questa sessualità ha portato a un'incapacità di avere una sana affettività, c'è uno scambio affettivo, che è una parte essenziale della sessualità. Diciamo che una sessualità positiva, una sessualità matura, ha alla sua radice proprio questo scambio affettivo. Altrimenti la sessualità è come un rapporto con una prostituta, staccato totalmente dall'affetto. e diventa una pratica che è scissa da un'unione di anime. Ecco quello che vi dicevo, sarete un corpo solo e un'anima sola. Questo ormai rimane solo una parola. E a questo anche il contributo della pornografia e quindi di avere contatto sempre a portata di mano una realtà virtuale e che alla fine fa molto comodo a molti proprio perché attraverso la pornografia si evita il controllo, il confronto diretto con l'altro sesso. Poi la banalizzazione. Guardiamo solamente questo poster. Fidati, te la do gratis. E poi piccolo, la montatura. E' pieno di doppi sensi, sia perché è la montatura, che sia il riferimento alla montatura degli occhiali, però anche a una, tra virgolette, montatura sessuale. E poi fidati, te la do gratis. Ecco questa è proprio la banalizzazione. Questo è il deserto che avanza. Questo è il nichilismo applicato alla pubblicità. Questa visione del sesso, degradata e degradante, denota la paura dell'uomo di entrare in contatto reale con se stesso e con gli altri. Paura del proprio silenzio interiore, sostituito da un costante rumore di sottofondo che impedisce di comprendere chi realmente siamo e impedisce di sperimentare l'esperienza più sublime del sesso praticato come via conoscitiva e non come mercificata pornografia. Perché il punto è proprio questo. La sessualità può essere utilizzata per comprendere chi siamo. E ogni volta che parliamo di comprensione reale di se stessi, parliamo della dimensione del silenzio. Per questo la visione del sesso degradata e degradante di oggi ci impedisce di entrare in contatto con il nostro silenzio interiore. Cosa è possibile nello scambio invece tra uomo e donna? Perché è vero che esiste un rapporto che può essere semplicemente genitale legato alla parte animale dell'uomo, ma è vero pure che l'uomo è l'unico tra gli animali che ha la possibilità di non praticare il sesso solo a livello istintivo. E come ci dimostrano le tradizioni esoteriche più profonde, un po' di tutto il mondo, ci può essere una sessualità intesa come forma di conoscenza, quella che Evola chiamò la metafisica del sesso in un suo saggio molto interessante. Come possiamo vedere dalle numerevoli persone che incontriamo ovunque, tutte rigorosamente con cellulari e cuffiette, l'uomo moderno ha terrore del silenzio, mentre ha sempre più bisogno di droghe di ogni tipo, da quelle che si fumano, che si iniettano o che si mangiano. Lo vediamo qui in questa immagine inquietante, no? L'uomo fatto di psicofarmaci. E l'uomo moderno ha alla base questo, il terrore del silenzio. Ma guardate per strada, tutti camminano immersi nella loro realtà virtuale, che è accentuata da questa relazione con il cellulare che ci mette a contatto a distanza con persone che non vediamo, quindi con persone, diciamo, parzialmente virtuali, e poi tutte queste cuffiette che aumentano la suggestione e ci estraneano dal momento presente. E questo estranearsi dal momento presente è determinato proprio dal terrore del silenzio, perché soprattutto noi che meditiamo sappiamo perfettamente che il silenzio è legato strettamente con il momento presente. Quindi estranearsi dal presente non è altro che fuggire dal silenzio e si fugge da qualcosa solamente se si ha il terrore di quel qualcosa, in questo caso terrore del silenzio. Uso e abuso di molte droghe, dunque, fino ad arrivare a quella che a mio parere è la droga più subdola, in quanto dà maggior dipendenza al punto da non poterne fare a meno, il rumore costante, che risponde al bisogno di stordirsi e di perdersi in ogni istante nelle suggestioni della realtà virtuale. Come vi dicevo, queste cuffiette che vediamo, questi auricolari, questo rapporto con il proprio iPod, il canale di accesso alla realtà virtuale, la finestra spalancata sul mondo che non c'è, e questo crea una dipendenza, perché crea questo rumore costante di fondo. In realtà esiste un silenzio che è imponente, che accompagna ogni momento della nostra vita e che più si merita e più si impara a riconoscere. Ma ascoltare questo silenzio e fare in modo che questo diventi una parte integrante di noi stessi è quasi impossibile se c'è questo rumore costante di sottofondo. Per cui quante persone ho visto che ad esempio in casa accendono la televisione o accendono un video di internet e neanche lo ascoltano. Magari svolgono le loro faccende di casa, fanno quello che devono fare, ma semplicemente avendo questo rumore di sottofondo, perché il rumore è diventato una costante e non è un caso anche questo, perché il potere, come favorisce la destrutturazione attraverso fenomeni come il gender, favorisce anche questo rumore costante, perché il silenzio nei fatti è legato alla trasformazione e alla presa di coscienza di se stessi. Così, anche in quella che è la principale tra le pulsioni, quella sessuale, ecco, questa principale tra le pulsioni viene portata via dalla dimensione reale per essere risucchiata nel mondo virtuale della pornografia e nel mondo altrettanto virtuale, ma che purtroppo viene scambiato per reale, del gender fluid. Così la sessualità perde i suoi orizzonti di senso, risucchiata in quella che Guénon definì la crisi del mondo moderno, quella controtradizione che si conferma come un processo involutivo, una vera e propria anomalia. Guénon parlò proprio della società moderna come anomalia. Attenzione, perché questo del gender fluid ancora coinvolge parzialmente l'Italia, ma in molti altri stati è già in una fase avanzata. e la pornografia è essenziale anche per la diffusione di questa aberrazione che è il gender fluid, perché la pornografia realmente risucchia in un mondo virtuale, al punto da dare dipendenza, tant'è vero che le porno dipendenze aumentano di giorno in giorno ed essere pornodipendenti spesso provoca un'incapacità di avere relazioni con le persone reali. E questo è qualcosa di gravissimo, che fa parte appunto della controtradizione, la scimmia di Dio, di tutto quello che ci impedisce una reale e profonda conoscenza di noi stessi. Ecco la vera e propria anomalia di cui ci parlava René Guénon. Compito di quei pochissimi rappresentanti della tradizione è la riproposizione di una visione della sessualità lontana sia da concezioni di tipo moralistico-borghese sia da forme esasperate di pandemia del sesso. E questo è più che vero. Noi che siamo in piedi tra le rovine, quindi noi che nonostante tutto entriamo in contatto con il silenzio ogni giorno e con la dimensione reale è sta a noi recuperare proprio una visione del sesso autentica, una visione del sesso che ci consenta di viverlo come conoscenza di noi stessi e non semplicemente come una espressione di brutale animalità. Gli uomini e le donne che vogliano rimanere in piedi tra le rovine hanno il dovere di riscoprire la propria vita sessuale come una possibilità di aprire la comunicazione con il divino, quindi come una opportunità di ascesi mossa dall'aspirazione al sacro. Perché, cari amiche e cari amici, l'orgasmo è l'unico momento di non mente che tutti sperimentano. Poi, purtroppo, quel momento in cui ogni immagine è assente dalla mente, molti associano la sessualità a quel momento di non mente. La non mente che si raggiunge invece attraverso la meditazione nell'immobilità. Anzi, potremmo dire quella non mente che è l'essenza della meditazione nell'immobilità. Di conseguenza, ricordiamoci che la vita sessuale può essere una grande opportunità di ascesi. però bisogna avere appunto questa aspirazione al sacro ed è interessantissimo questo libro e se non l'avete letto ve lo consiglio anche se non è un libro semplicissimo che è Metafisica del sesso di Julius Evola. Questa mi riferisco appunto alla metafisica del sesso al sesso concepito come conoscenza questa certo non la si potrà trovare nelle visioni degradanti della sessualità concepita dalla sempre più politicizzata organizzazione mondiale della sanità ma i riferimenti tradizionali primi tra tutti il mito di Poros e Penia nel simposio di Platone dove al contrario delle abberranti teorie del gender fluid le polarità tra i sessi maschile e femminile appaiono complementari in quanto ben distinte e come aspirazione alla ricomposizione dell'unità primordiale dell'androgio poi scissa nella dualità dei sessi adesso vedremo cos'è questa unità primordiale dell'androgio ma qui è da rilevare un altro elemento importante in tutte le tradizioni si parla ad esempio di yin e yang di maschile e femminile di shiva shakti come nella figura che vedete qui ci sono queste rappresentazioni indiane con krishna e rada contemporaneamente shiva e shakti sono indicazioni precise di di quello che poi troviamo espresso in maniera magistrale nel tao le complementarità degli opposti che si uniscono e diventano uno ma possono diventare uno in quanto ben distinti non può esserci complementarità e fusione tra maschio e maschio o femmina e femmina proprio perché sono necessari gli opposti quindi un maschio e una femmina non è un caso che la vita può essere riprodotta mai tra maschio e maschio e femmina e femmina ma solamente nel rapporto d'amore e di unione complementare tra un uomo e una donna quindi tra un elemento maschile e un elemento femminile complementari attenzione in quanto ben distinti Platone ci racconta il mito dell'androgeno una figura mitologica composta da una natura maschile e femminile unite insieme che Zeus divide in due persone diverse punendo l'androgeno in tal modo per la sua superbia le due metà disgiunte non smissero mai di cercare di ricomporre la loro unità e cos'è l'amore se non l'eterna pulsione a ricomporre questa divina fusione eros è figlio di poros e penia penia esprime la sofferenza del vuoto della privazione poros invece è l'anelito alla soddisfazione del desiderio e l'amore non è che questo la ricerca di un completamento di una condivisione di una complicità il riempire da parte di poros il vuoto di penia attraverso il ricongiungimento dell'androgeno scisso nella società attuale il vuoto di penia e la brama di poros sono più che mai evidenti ma spesso manca la capacità di mettersi in discussione di cercare quel terreno di condivisione senza il quale poros e penia non potranno mai completarsi davvero e questo è un miro è un mito stupendo è un mito stupendo che ci parla proprio di questa complementarità sappiamo che i miti parlano sempre dell'origine in origini ci racconta Platone esistevano uomini donne ma esistevano anche questi androgeni che è l'unità tra maschile e femminile l'implicazione di questo mito immenso riviederebbe un'intera playlist ma è questo mito che ci parla dell'esatto opposto di questa mercificata sessualità moderna ci parla di mistica del sesso ci parla del sesso sacro di come nell'uomo e nella donna c'è questo impulso che porta a ricongiungersi al suo opposto e questa non è solamente una congiunzione genitale una congiunzione carnale è anche una congiunzione carnale e genitale ma essenzialmente è una congiunzione affettiva che avviene proprio attraverso uno scambio affettivo che può portare a riunirsi nell'androgeno primordiale quindi può portare a superare la dualità perché quell'androgeno non è altro che il simbolo dell'uno che si perde a un certo punto nella dimensione duale ma che può essere recuperato da una sessualità che riunisce e ci rende consapevoli del nostro centro quindi come vedete le giuste indicazioni anche per una corretta vita sessuale le ritroviamo nella tradizione e non certo nei dettami nelle perversioni dell'organizzazione mondiale della sanità che veramente è diventato il partito politico dell'aberrazione durante il simposio dunque Aristofane narra questo stupendo mito riferendosi ad un tempo originario quando gli uomini erano esseri perfetti non mancavano di nulla e non vera distinzione tra uomini e donne quell'essere androgino del quale le attuali teorie gender fluid non sono altro che la parodia una squallida scimmiottatura così in origine secondo questo bellissimo mito esisteva un essere che riassumeva in sé i due sessi che poi fu diviso nei due sessi che noi conosciamo come distinti e separati questo splendido mito ci insegna che dobbiamo intendere l'amore e l'incontro sessuale non soltanto come piacere e divertimento ma come superamento delle singole individualità come superamento del senso dell'ego attraverso la reciproca immersione nell'unico centro come capacità di dono di sé attraverso una reciproca integrazione che conduca alla compenetrazione e fusione delle anime come espresso bene in questa figura quindi l'altra persona è il proprio partner che diviene un mezzo per accedere insieme alla fusione delle anime a questa compenetrazione a cui tende il sesso sacro questa immersione nell'unico centro dove insieme gli amanti si perdono e si fondono in quello che è Brahman il ritorno alle origini un caro abbraccio a tutti Marco Cosmo di di Grazie.